Ed eccole qua le AirDot, scherzo abbiamo anche le AirDot Pro e facciamo un bel confrontone ma prima vogliamo ringraziare Grosso Shop per averci aiutato, si è veramente sbattuto tanto per trovarle in questo momento e vi ricordiamo che sul loro sito GrossoShop.net potete utilizzare il nostro Covan XTGS5 per ricevere un piccolo sconto Allora cominciamo dalle AirDot di prima generazione, l'AirDot che vi dico subito non mi hanno convinto, anzi mi hanno convinto pochissimo in verità Partiamo un attimino dal Dock che è una delle cose che invece al contrario mi è piaciuto molto, è molto piccolino, è minimale, è uno dei più piccoli che ho visto In questi giorni stavo provando anche le Pamu Scroll, è il doppio, oltre che le Pamu Scroll che si diventa in tasca anche un po' più al piede della forma, sono abbastanza ambigue Quindi un bel Dock minimale, piccolino, con un LED di ricarica che qui è nascosto, compare solo al momento della ricarica che ha un attacco di tipo micro USB Chiusura magnetica, piuttosto solida e assolutamente sicura, non si rischia di perderlo Anche gli auricolari si inseriscono in modo magnetico, in modo abbastanza facile e si estraggono allo stesso modo facilmente, ora sono girati Gli auricolari sono una delle cose che mi sono piaciute come design Io già utilizzavo il mini auricolare che purtroppo però non aveva il touch, quindi non era comodissimo Ma come design erano perfetti, almeno per le mie orecchie sono perfetti Perché si inseriscono perfettamente e si incastonano, potrei fare dieci round di box senza perderli Questa è un'altra cosa che mi è piaciuta C'è un'ampia superficie touch, anche se ho il sospetto che solamente la parte centrale sia sensibile Indifferentemente, sia a destra e a sinistra, con un tocco si mette in pausa e in play la musica e si risponde alle chiamate, con un doppio tocco invece si avvia l'assistente vocale Primo problema, i comandi non sempre vengono riceviti facilmente Ecco, forse adesso che ho capito che centralmente le riceve meglio Hanno cominciato a funzionare un pochino meglio, ma diciamo che sette volte su dieci solo riuscivo a impartire i comandi Qui abbiamo un Bluetooth 5.0 Ma devo dire che i problemi di comunicazione ce ne sono stati Allora, l'ascolto della musica è sufficiente Bassi così così, alti, mi sembrano troppo alti almeno per i miei gusti Ma i problemi maggiori ci sono durante la chiamata Perché gli interlocutori non sempre mi riuscivano a capire Ho trovato in verità dei risultati attenuanti, qualche chiamata buona l'ho fatta Ma è capitato spesso di dover riagganciare e ripetere la chiamata Perché non riuscivano ad ascoltarmi, non riuscivano a comprendermi Ma il vero problema è piuttosto nel pairing delle cuffie Ovvero nella sincronizzazione tra di loro Capita alcune volte di trovarne una delle due che non funziona È necessario rinserirle nel dock, ritirarle fuori E a quel punto solitamente si risincronizza tra di loro Nulla di trascendentale, più o meno l'ho risolto Però, insomma, questi piccoli problemi si accumulano L'esperienza d'uso non è stata il massimo Ovviamente questo bisogna tener conto anche del prezzo Penso che al momento è di 45 euro Sono tanti i 45 euro per un prodotto che è un po' lontano dalla perfezione A me dispiace sempre bocciare un prodotto Xiaomi Ma purtroppo è così Insomma è un prezzo ancora troppo alto Sinceramente per il compromesso che bisogna accettare Da Xiaomi ci aspettiamo sempre tanto Ed è giusto che sia così Insomma, quando è così, dobbiamo dirlo Quindi, non lo so Nell'attesa di un fix Ammesso che sia possibile Per non sono sicuro Le ho dovute un po' accantonare Anche perché arrivavano le AirDot Pro E quindi mi sono goduto quello Ed eccole qui, le AirDot Pro Allora, qui abbiamo un design completamente diverso Anche per il dock Un pochino più grande Un pochino più pesante E qui abbiamo un attacco Type-C Che per me che ho tutti i device con il Type-C È una gran comodità Magari non lo sarà per qualcun altro Ma ormai andiamo in quella direzione Quindi mi fa piacere trovarlo Il dock anche in questo caso è molto minimale Abbiamo una spia che segnala la ricarica È possibile attivare la spia Con un pulsante di controllo qui di lato Che serve anche per il pairing delle cuffie con il telefono La spia si rimane accesa per 5 secondi Una spia fissa vuol dire che la ricarica è sufficiente Altrimenti lampeggia Anche qui abbiamo un coperchietto magnetico Piuttosto solido Anche qui non ci sono problemi in questo senso Gli auricolari anche hanno un design interessante Ho una cosa Ho tuttora un problema ad estrarle In verità Non sono uno che ha le mani sudate o fredde solitamente Ma non mi risulta comodissimo Forse non ho capito come estrarle Mi sono trovato più spesso a sbattere e tirarle fuori Come se fosse un pacchetto di malboro Forse devo capire come estrarle Qui abbiamo un design anche per gli auricolari diverso A bacchetta Nelle foto sembrava un pochino più piccolo Dico sinceramente Sono circa 7 mm tutto alla bacchetta Non piccolissime insomma Però si indossano piuttosto facilmente E anche piuttosto comodamente Qui abbiamo Ecco come vedete Il microfono è un pochino più Proteso verso la bocca E ne guadagna anche l'audio in chiamata Ovviamente In questo senso Allora a proposito Qui abbiamo due microfoni Uno sotto E uno più in alto Scusate qui No Qui Perché sono dotate di cancellazione del rumore Che però si attiva solo durante l'ascolto della musica E si disabilita in automatico durante le chiamate Abbiamo una superficie touch rotonda Piuttosto facile da raggiungere ovviamente Qui abbiamo dei comandi diversi In base alla destra e alla sinistra Sulla destra Con un doppio tocco C'è il play e la pausa Della musica E la risposta in chiamata Sulla sinistra con il doppio tocco Invece si attiva l'assistente vocale In questo caso Non mi ricordo se ne abbiamo parlato Dell'autonomia dell'AirDot In ogni caso è piuttosto sovrapponibile Circa 4 ore di autonomia Che diventano 10 con l'utilizzo del dock Nonostante il bluetooth 4.2 L'audio in chiamata è sempre piuttosto chiaro Ho trovato solo qualche problema O in qualche occasione di una richiamata E nella musica Abbiamo sinceramente un Molto migliore rispetto all'AirDot Di prima generazione Con dei buoni bassi E degli alti equilibrati E me la sono goduta molto Ho un'altra cosa interessante Comunque utile È che è certificato IPX4 Quindi resistente A eventuali schizzi Può essere comodo Se uno li utilizza Per andare a correre E magari incontra un po' di pioggia O comunque anche il sudore Che in alcuni casi Può creare dei problemi Ai device Mi sono piaciute? Sì Mi sono piaciute Non sono perfette Come si dice in questi casi Bene ma non benissimo Il problema anche in questo caso Resta il prezzo Anche se Che è intorno ai 75 euro Ma sono appena uscite Qui sicuramente avremo Un prezzo Che andrà in calo Si assisterà Non appena le forniture Diventeranno un pochino più regolate A questo punto Penso ormai dopo il capodanno cinese Quindi mi sono piaciute Le continuerò a usare Metterò da parte Per un po' Le Pamu Scroll E magari se avrò occasione Vi dirò anche qualche altra cosa In più avanti Ho un'altra cosa Una curiosità Che ho notato Il manuale È anche in inglese È una cosa piuttosto rara Per i prodotti Xiaomi E soprattutto Questi appunto Quando non sono Di sicura importazione Non è in inglese Il manuale delle AirDots Ma solamente questo È anche la confezione Riporta la scritta in inglese Questo mi fa pensare Che è possibile Probabile Una commercializzazione O comunque Un'esportazione fuori dalla Cina Non molto in là E ci piacerebbe A quel punto Vedere anche i prezzi Ufficiali Quali potrebbero essere Questo è tutto AirDots AirDots è vero Un po' meglio Via Quindi Se ho dimenticato qualcosa Come al solito Scrivetemi sui commenti Sarò ben felice Di rispondervi Ringraziamo ancora Grosso Shop E vi ricordiamo Di iscrivervi al nostro canale Di cliccare sulla campanellina Per attivare le notifiche Dei nuovi video Ciao 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 Grazie per la visione!